Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Prepararsi per le gare a volte è difficile, complesso, fin pure noioso in determinate situazioni, ma io che sono notoriamente un malato di corsa, in certi allenamenti mi diverto lo stesso anche se si tratta di correre alla morte o quasi, ed oggi voglio raccontarvi di tre workout da me svolti in precedenza con obiettivi e caratteristiche diverse ma che comunque hanno il fil rouge di essere stati da me apprezzati particolarmente e che ho trovato anche sfidanti, nulla comunque di impossibile, se li ho fatti io li può fare chiunque, soprattutto se si ha una discreta base aerobica, ma allo stesso tempo sono dei momenti che richiedono concentrazione ed impegno, è roba da fare comunque con un filo di attenzione. Come al solito prima di partire mi tocca fare del maniavantismo, ci sono da fare insomma un po' di premesse. Ognuno di voi ha la propria base da cui parte, il proprio livello, le proprie capacità ed un diverso obiettivo da raggiungere una gara o una cosa personale che si vuol fare, per cui oggi vado anche un po' contro le mie stesse regole autoimposte e vi racconto in modo dettagliato alcuni workout che ogni tanto svolgo, ma vedrete che mi terrò ad ogni modo abbastanza generico e anche elastico se vogliamo in alcuni particolari. Come sempre ci tengo a precisare che appunto ognuno è fatto a modo suo, pertanto non prendeteli pari pari ed eseguiteli alla prima occasione disponibile, non uscite domani mattina mettendo le scarpette e facendo uno dei tre allenamenti che vi racconto oggi, ma analizzate ciò che vi dirò, lo scopo per il quale effettivamente vengono svolti e se volete provate ad adattarli con coscienza, con intelligenza, con granosalis nelle vostre tabelle, anche eventualmente modificando qualcosa e, se è il caso, rendendoli pure meno impegnativi. Per farvi capire con un esempio pratico e chiaro, alcuni di questi esercizi li ho fatti in preparazione ad un ultra trail, magari se adesso vi state allenando per una 10 chilometri non ha senso che li facciate nemmeno perché andranno a toccare parametri e caratteristiche che a voi interessano poco o nulla. Pertanto per ognuno di essi vi dirò proprio lo scopo principale, cioè quale caratteristica specifica vada ad allenare, il periodo della preparazione in cui li faccio ed ovviamente i dettagli sul numero di ripetizioni, ritmi da tenere e così via. Vi racconto tre workout che ho selezionato che per me sono stati sì faticosi ma al tempo stesso sfidanti e divertenti per vedere davvero se ero in grado di portarli a casa come richiesto dal coach. Lo so che è un po' da masochisti ma se siete qua ad ascoltarmi ci sono buone probabilità che anche a voi piaccia faticare proprio come al sottoscritto. E allora iniziamo! Il primo è fartlek più scatti in salita. Parlando di workout comunque divertenti non si poteva non partire da un fartlek ma dal nome avrete capito che forse non si tratta di una roba super semplice e non è nemmeno un fartlek libero come a volte si fa ma con delle specifiche tempistiche da rispettare. Il periodo della preparazione dove si fa questo allenamento è quello della potenza aerobica cioè si fa lontano dalle gare anche a più di un mese o due di distanza di solito a inizio tabella. L'obiettivo è l'accrescimento del via 2 max anche se alzare la potenza aerobica significa crescere un po' tutte le caratteristiche fondamentali per l'endurance. Si tratta di sforzi abbastanza brevi ma intensi nonostante ciò sono utilissimi anche per runner che devono preparare gare lunghe anzi possiamo dire che questa sia la base ed è il fondamento su cui costruire anche la velocità di endurance vera e propria più avanti vediamo un esercizio proprio specifico poi per l'endurance è per questo quindi che questi esercizi si fanno inizio preparazione perché sono la base. Vediamo i dettagli di questo workout. Questo esercizio è piuttosto impegnativo a livello muscolare andrà a costringervi a momenti brevi ma intensi sia in pianura che in salita corribile mi raccomando che sia corribile. Si inizia con 10 o 15 minuti di riscaldamento a corsa lenta poi ci sono 5 ripetute da 2 minuti l'una su zona pianeggiante corse al massimo delle vostre capacità quindi sopra la soglia aerobica con 2 minuti di recupero attivo fatti di corsa lenta. A seguire sempre proseguendo a correre 5 o 10 minuti di corsa lenta. Dopodiché un altro blocco di ripetute stavolta sono in salita 4 volte 30 secondi su salita corribile con un minuto di recupero fatto camminando in discesa per tornare al punto di partenza della ripetuta stessa. Anche in questo caso il ritmo della ripetuta fatta in salita deve essere al massimo delle vostre possibilità. Infine dopo questo blocco 15 minuti di corsa lenta per defaticare. Quando parlo di corsa lenta o facile ve lo dico ora ma vale anche per gli esercizi a seguire intendo un ritmo basso che non deve appesantire il vostro respiro. È quel ritmo che dovreste mantenere correndo respirando appunto solo con il naso o chiacchierando con qualcuno senza affanno. È la classica corsa lenta insomma quella anche rigenerante qualcuno la chiama così. Proposta numero 2 half ladder. Il periodo di preparazione è quello centrale della tabella non vicino alle gare non a ridosso delle gare ma nemmeno ad inizio preparazione. L'obiettivo è la soglia. Se vogliamo semplificare sono gli allenamenti che vanno un po' a definire la vera e propria cilindrata del motore di un runner. In genere gli allenamenti di questo tipo sono lavori molto tosti che vanno di conseguenza inseriti bene all'interno della settimana andando a bilanciarla con altre uscite più blande. Come si fa questo esercizio? Il nome dell'allenamento è appunto half ladder proprio perché si tratta di una mezza scala. Vi spiego meglio. Prima fase è di riscaldamento come sempre. In questo caso sono 3 chilometri di corsa lenta. Poi altri 3 chilometri ma corse a un ritmo che terresta in una 10 chilometri e 2 minuti di recupero di corsa molto facile. Poi altri 2 chilometri sempre a ritmo 10 chilometri quindi stesso passo della prima ripetuta ed altre tanti 2 minuti di recupero di corsa semplice semplice. In questi due recuperi si deve andare davvero piano non fermandosi del tutto ma correndo lentamente. A seguire un chilometro nuovamente forte con un passo che sia circa 10 secondi più veloce rispetto a quanto fatto nelle due ripetute intense precedenti. Ovviamente come passo intendo un ritmo al chilometro. Ed infine 3 chilometri di cooldown quindi di defaticamento con ritmo lento per chiudere. I più forti possono anche svolgere questi esercizi in zone mosse ma il mio consiglio è di iniziare di farlo la prima volta con zero dislivello e poi eventualmente farlo nuovamente con maggior consapevolezza in un secondo momento a distanza di qualche tempo. Se volete qui inserendo qualche salitina comunque sempre ben corribile. Terzo ed ultimo workout ripetute lunghe per l'endurance. Il periodo in cui si svolgono è quello specifico prima della gara. Si fanno in genere nell'ultimo mese in vista di competizioni lunghe ma non nella fase di tapering quindi si fanno un pelino prima. L'obiettivo è appunto l'endurance. Servono appunto per lavorare sul ritmo gara inserendo queste lunghe fasi continue ma corse a ritmi comunque non eccessivamente mortali. Bisogna rimanere sempre sotto la soglia. Quali sono i dettagli di questa uscita? È un allenamento più lineare dei due precedenti a livello di spiegazione. Intanto però vi dico che è meglio svolgerlo interamente in pianura proprio al limite su un terreno poco ondulato. Si parte con 20 minuti di riscaldamento con corsa facile cui seguiranno due ripetute lunghe così fatte. 20 minuti corsi a un ritmo tra mezza maratona e maratona su strada questo dipende un po' dalla vostra gara obiettivo e 4 o 5 minuti di recupero correndo più piano. In questo caso però il recupero non è di corsa lentissima come nelle situazioni precedenti. Va fatto 30 secondi più lento del passo al chilometro tenuto nella parte attiva. Per chiudere 15 minuti di defaticamento questi sì invece corsi a ritmo facile. Per me queste sono state tre belle piccole sfide che mi sono trovate in tabella. Per questo motivo ho voluto raccontarvele quest'oggi. Sono proposte di allenamento che come già detto in apertura potete usare come spunto per le vostre preparazioni. Però tenete sempre in conto che io vado spesso a fare gare mediamente lunghe per cui ci sta che in determinati casi non siano adatti a voi o che sia necessario di potenziarli un filino. Mi raccomando anche questo l'ho già detto ma ci tengo a ripeterlo adattateli su di voi e sulle vostre caratteristiche. Volutamente non vi ho dato dei ritmi assoluti da tenere ma ho voluto mettere dei riferimenti più generici. Soglia, corsa lenta, 30 secondi più lento eccetera eccetera. Ad ogni modo è bene inserirli con criterio nelle vostre tabelle. Sono tutti e tre comunque workout tosti che in linea di massima vanno a collocarsi nella casella della giornata delle ripetute chiamiamola così. Non andate a strafare con tanti giorni difficili magari consecutivi all'interno di una sola settimana di allenamento. Siate consapevoli e onesti di quello che potete fare. Anche perché poi esagerare può portare ad infortuni da sovraccarico. Aggiungo anche che per tutti questi allenamenti è importante sì la fase attiva, quella dove si corre forte, ma altrettanto quella di riscaldamento iniziale ed effaticamento finale. Non andate a eliminarle per recuperare del tempo se siete a corto di minuti. Piuttosto togliete una o più ripetizioni nelle fasi impegnative. Spero comunque che possano esservi utili anche solo veramente come spunto per poi creare voi i vostri allenamenti sempre nel caso non abbiate un coach a seguirvi. In quel caso questa puntata non serve a un belino. Io facendoli ho sudato e faticato. Ho anche un po' smadonnato ma al tempo stesso mi sono tolto anche delle piccole soddisfazioni. Se decidete di farli fatemi sapere come vi trovate pure voi. I contatti per scrivermi questa cosa e tutto il resto lo trovate nelle note dell'episodio, social, telegram e quant'altro. E poi vi ricordo sempre che per aiutarmi nel promuovere la cultura del running per noi amatori sempre nelle note c'è il link per entrare nel canale patreon. Si può partire anche da un euro al mese e per me anche solo un euro fa veramente la differenza. Direi che per oggi è tutto. Cari runners lo so che è un po' da masochisti lo dicevo anche prima ma chi l'ha detto che pure le ripetute non possano essere sfidanti e perché no divertenti. Ci sentiamo alla prossima puntata.